segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te abbiamo in studio stasera e sono molto contento le dico la verità di avere milena gabanelli non la sto a presentare perché tutti la conoscete d'altra parte l'elenco dei suoi meriti sarebbe molto lungo ho appena letto l'articolo 21 della costituzione lei sarà d'accordo assolutamente chi come si fa a non essere d'accordo con l'articolo 21 della costituzione dopodiché tutti hanno il diritto di manifestare la propria opinione al bar sicuramente sì in casa propria anche poi dipende dal luogo in una scuola un insegnante per esempio deve manifestare la propria opinione quando entriamo nel campo dell'opinione in base alle competenze e conoscenze che ha cioè chiunque non può parlare di qualunque cosa per via del fatto che ha il diritto di dire e quindi influenzare altre persone su dei principi o delle informazioni che sono provatamente sbagliate cioè in un certo senso il limite della democrazia a volte la democrazia stessa bella questa cosa la poi la prossima volta la mettiamo scritta là che paura no